Edmund Burke, le considerazioni sulla rivoluzione francese. Le Reflections on the Revolution in France, riflessioni sulla rivoluzione francese, sono di fatto l'opera più nota e più commentata del filosofo Edmund Burke. Un'opera molto influente sulla letteratura filosofico-politica intorno al tema della rivoluzione francese. E' un'opera che viene pubblicata poco dopo la presa della Bastiglia del 14 luglio del 1789 e quindi sono una analisi filosofico-politica della rivoluzione in fieri con gli eventi che ancora si succedono rapidamente. Non uno studio ex post, ripeto, ma uno studio nel mentre che la rivoluzione si svolge. Ebbene, Edmund Burke intuisce, analizzando le premesse filosofiche che era venuto sviluppando nei tempi precedenti, l'intero corso degli eventi rivoluzionari. Presagisce ciò che sarà, dà regicidio alla dittatura militare napoleonica e stigmatizza profondamente la natura stessa della rivoluzione francese. Potremmo dirlo senza tema di smantita, Edmund Burke è uno dei critici più feroci della rivoluzione francese e di più degli stessi principi illuministici che stanno alla base della rivoluzione francese. Per Edmund Burke la rivoluzione è l'avvento della barbarie, è la sovversione di ogni legge morale e di ogni consuetudine civile e politica. Sappiamo che Burke ha un giudizio molto critico, che è un giudizio anche palpitante di storia reale, perché sull'interpretazione della rivoluzione francese da subito si spacca la politica inglese. Lo stesso partito Whig si spacca e nasce una divisione fra i New Whig liberali di Charles James Fox e gli Old Whig guidati appunto da Burke, i quali Old Whig si stringono infine in lega politica con i tori di William Pitt, il giovane. Edmund Burke, critico indefesso della rivoluzione francese, difende il Commonwealth Cristiano d'Europa, al quale la Francia giacobina e atea si è sottratta. Ed è per questo che bisogna combattere accanitamente contro la Francia rivoluzionaria. Burke afferma che negli anni della rivoluzione la Francia autentica risiede all'estero, non certo in terra gallica. Per questo bisogna appoggiare la causa contro rivoluzionaria ed è forse, potremmo dire con sicurezza, che anche grazie a queste letture che il governo britannico fornisce alla causa contro rivoluzionaria francese un pur parziale appoggio. Ebbene, il fondamento della filosofia politica di Burke è la difesa dell'ethos classico cristiano, quello che la rivoluzione francese ha fatto non solo periclitare, ma di più ha tentato di distruggere. È solo il classico fondamento etico e valoriale cristiano che può fondare, secondo Burke, le consuetudini giuridiche e culturali. È parte della società delle nazioni cristiane europee. Per questo bisogna opporsi alla rivoluzione francese che, dissolvendo questo fondamento, ha fatto a cascata crollare tutto il resto. In particolare, il rapporto che Burke istituisce fra diritto naturale e morale e istituzioni civili considera queste ultime come tentativo storico di incarnare il primo. Le istituzioni civili, cioè, sono un tentativo di tradurre in pratica il diritto naturale, secondo una logica che annoda fra loro la morale personale e la morale sociale. Potremmo dire che, nella sua lettura revisionista della rivoluzione francese, la sferzante requisitoria di Burke contro i pericoli di dispotismo racchiusi embrionalmente nei progetti che vogliono ricostruire ex novo l'uomo comincia davvero ad apparire profetica. Burke descrive ciò che sta avvenendo con la rivoluzione francese come, testualmente, la crisi più stupefacente mai avvenuta nel mondo. In coerenza con i suoi antichi principi di ispirazione cristiana, Burke non stupisce che si opponga con forza alla rivoluzione francese, mentre suoi antichi alleanti erano passati a sostenerla. La posizione antirivoluzionaria lo portò a essere un conservatore contro i suoi antichi principi, a tal punto che, nel XIX secolo, immaginava Burke, chissà si sarebbe trovato perfino più a suo agio nel partito dei Tories, che in quello dei Whigs, ormai trasformato in partito liberale non distantissimo dai principi della rivoluzione. La polemica durissima contro la rivoluzione porta Burke a elogiare il sistema politico inglese, perché esso rispetta l'ordine del mondo. Laddove, invece, il fanatismo della ragione esploso con la rivoluzione francese potrebbe davvero abbattere tutti i vincoli sociali. Ed è per questo che Burke difende la religione statuita per poter, in tal guisa, difendere insieme la società statuita. Dice testualmente Burke, nel suo saggio Riflessioni sulla rivoluzione francese, «Non escluderei del tutto le alterazioni, ma anche se dovessi mutare, muterei per preservare. Grave dovrebbe essere l'oppressione per spingermi al mutamento, e nell'innovare seguirei l'esempio dei nostri avi. Farei la riparazione attenendomi il più possibile allo stile dell'edificio. La prudenza politica, un'attenta circospezione, una timidezza di fondo morale più che dovuta a necessità, furono tra i primi principi normativi dei nostri antenati, nella loro condotta più risoluta». Ecco, con queste parole Ben si comprende lo spirito conservatore antirivoluzionario di Edmund Burke, il quale non solo attacca la rivoluzione francese come evento storico che egli vive in presa diretta, ma attacca la rivoluzione in sé come idea di trasformazione, come idea che pretende di radere al suolo il passato per creare ex novo una nuova storia. Per Burke bisogna invece trarre ispirazione dal passato, sicché l'idea stessa di rivoluzione è delegittimata. Ecco perché, scrive ancora Burke, «Fare una rivoluzione è una misura che prima fronte richiede una giustificazione. Fare una rivoluzione significa sovvertire l'antico ordinamento del proprio paese e non si può ricorrere a ragioni comuni per giustificare un così violento procedimento». Ecco, per queste ragioni, anche per queste ragioni, Burke si oppone fermamente all'idea della rivoluzione francese e insieme all'idea della rivoluzione in quanto tale. La rivoluzione francese è l'incarnazione dell'idea stessa di rivoluzione come sovversione dei principi religiosi e come folle e fanatico ideale per Burke di creare ex novo una nuova società radendo al suolo il vecchio sistema.